Quando si parla di D'Annunzio, il primo tema che dobbiamo individuare è quello del superuomo. Il concetto di superuomo era stato già espresso da Nietzsche. Già Nietzsche, in Così parlò Zaratustra, aveva parlato di superuomo, che in tedesco appunto veniva chiamato Übermensch, cioè l'uomo che sta al di sopra di tutti. Ora, per Nietzsche questo concetto di superuomo era duplice. Infatti nella sua mente c'era sia l'Ubermensch come un modello di umanità futura liberata dalle superstizioni e da ogni forma tradizionale di cultura religiosa, morale, estetica, quindi una condizione superiore rispetto a quella attuale che avrebbe dovuto investire e favorire l'intera umanità. Quindi superuomo come un qualcosa che ancora deve avvenire, che ancora deve essere creato e che noi oggi, nel presente, dobbiamo far di tutto per sviluppare. L'altro concetto di superuomo che viene usato da Nietzsche è quello di un singolo individuo in grado di realizzarsi pienamente in base a una propria personale morale a dispetto del resto della società e in contrasto con essa. Nietzsche parla di superuomo dicendo che attualmente ancora non siamo arrivati allo sviluppo perfetto dell'umanità, quindi non tutti gli uomini sono superuomini, ma già da oggi alcuni superuomini, alcune persone speciali ci sono e sono appunto degli individui che si contrappongono al resto della società, che non vogliono obbedire alle sue regole, che agiscono in base a una propria personale morale e che quindi così facendo riescono a realizzarsi pienamente. Ecco, D'Annunzio riprende l'idea del superuomo in questa seconda accezione, quindi D'Annunzio non parlerà mai di un possibile sviluppo futuro dell'umanità che dovrebbe portare appunto tutta l'umanità a realizzarsi pienamente, ma parlerà di superuomo soltanto come singolo individuo che oggi nel presente si presenta come superiore rispetto al resto dell'umanità, in grado di capire quello che gli altri non capiscono, in grado di provare ciò che gli altri non provano, in grado di entrare in contatto perfetto con la natura. Ed è proprio in quest'ottica che D'Annunzio utilizza il mito. Parliamo infatti di questa seconda tematica d'Annunziana che io ho chiamato la riattualizzazione del mito e vedremo come nelle poesie D'Annunzio si paragoni a dei personaggi mitologici, a un dio, a un semidio, a un eroe, per esempio ad Ulisse. Questo perché lo fa? Lo fa per sottolineare la propria superiorità. Come gli dèi, come gli eroi erano superiori rispetto agli esseri umani dell'antichità, ecco, anche oggi D'Annunzio e i suoi pari, gli altri superuomini, sono superiori rispetto al resto dell'umanità. Potete vedere in questo concetto ovviamente il disprezzo del poeta decadente nei confronti della società borghese della belle époque, la mentalità borghese che pensa solo all'utile, che pensa solo al guadagno, che pensa soltanto alla produttività e che non pensa ai veri valori della vita, che sono la ricerca della verità, la ricerca della bellezza, la religione dell'arte. Questa, come sappiamo bene, è una tematica presente anche in altri autori, come per esempio Charles Baudelaire, che quando parla di perdita d'Aureola, parla proprio di questa desacralizzazione del poeta che viene osteggiato, allontanato dalla società, che dai poeti vuole soltanto una cosa, vuole l'intrattenimento, vuole il divertimento, costringendo quindi il poeta a vendere come una prostituta ciò che non deve essere venduto, cioè appunto l'arte. Come la prostituta vende l'amore, anche il poeta si trova costretto per vivere, per mangiare, a vendere ciò che non dovrebbe essere venduto. Ecco, D'Annunzio rifiuta questa emarginazione del poeta, questa desacralizzazione del poeta, e anzi, al contrario, e lo vediamo proprio con questa riattualizzazione del mito, riafferma fortemente la sacralità della funzione del poeta. Il poeta è un vate, cioè è un profeta per D'Annunzio, è qualcuno che vede più lontano, che sa quello che gli altri non sanno, che conosce ciò che gli altri non conoscono e che quindi deve guidare la società mostrandogli la strada. Un altro tema fondamentale in D'Annunzio è il tema del panismo. Cosa si intende con il termine panismo? Si intende lo scambio fra naturale ed umano. Questo termine deriva dal nome del dio greco Pan attraverso l'aggettivo panico. Pan era una divinità del mondo pastorale, con carattere di selvaggia bestialità e legami con il mondo degli inferi. Ma che significa dire che il panismo è lo scambio fra il naturale e l'umano? Vediamolo un po' più in dettaglio. Intanto diciamo che il termine panismo è collegato anche a un'altra voce greca, a un'altra parola greca, la parola Pan, che significa tutto. Quindi questo dio Pan aveva anche un carattere di divinità universale della natura. Ecco, è proprio a questa accezione che si riferisce D'Annunzio quando parla di panismo. Per D'Annunzio il panismo è l'attenzione a identificarsi con le forze naturali, fondendosi ad esse con slancio gioioso e istintivo. Ma di nuovo, spieghiamoci meglio. Che cosa vuol dire tendere a identificarsi con le forze naturali fondendosi con la natura? Vuol dire semplicemente che D'Annunzio, in quanto superuomo, riesce a fare quello che noi, esseri umani normali, non potremmo mai fare. Cioè, in qualche modo, vegetalizzarsi, animalizzarsi, trasformarsi in un vegetale, trasformarsi in un animale, entrare in contatto con gli alberi, con le piante, entrare in contatto con tutta la natura. Quando leggeremo alcune poesie di D'Annunzio, per esempio, la poesia Stabat Nuda Estas, noi vedremo che a un certo punto il poeta dice di aver sentito il verso della lodola e di avere capito che cosa stava dicendo la lodola. Quindi, ecco, non è più un semplice essere umano, ma, in quanto superuomo, è riuscito a entrare in contatto con l'animale tanto da capire il significato del suo verso. Nella poesia più famosa di D'Annunzio, che tutti conosciamo, La pioggia nel pineto, poi abbiamo una vera e propria vegetalizzazione sia del poeta che della sua donna. I loro volti sono diventati silvani e lui e la sua donna vivono di arborea vita, quindi della stessa vita degli alberi. Si sono trasformati e sono anche loro diventati parte della natura. Ricordiamoci sempre che questa idea di entrare in contatto con la natura, con il tutto, questa convinzione che tra tutte le cose dell'universo esistano delle connessioni, delle corrispondenze, poiché tutto è fatto della stessa materia spirituale. Ecco, questo tipo di impostazione è tipica anche di Baudelaire, è tipica di tutti i simbolisti, di Rimbaud, di Mallarmé, di Pascoli, e quindi è anche tipica di D'Annunzio. Ricorderete quello che abbiamo definito il mondo nascosto, cioè quello che noi percepiamo, quello che noi tocchiamo, non è la realtà vera. Per dirla con Kant, quello che noi tocchiamo e percepiamo sono soltanto fenomeni che avvengono in un determinato tempo e all'interno di uno spazio ben preciso. Ma la cosa in sé, il no u meno, quello che è veramente l'essenza del mondo, ci sfugge, proprio perché l'essenza del mondo non è riducibile alle categorie di spazio e di tempo. È infinito, è immortale, è eterno. Questa è la vera essenza del mondo. E all'interno della cosa in sé, l'unica categoria che veramente è importante non è la dimensione spazio-temporale, ma è la grande e profonda unità, come dice appunto Baudelaire in Corrispondenze. Tutto è parte dello stesso universo, tutto si corrisponde, c'è un legame tra tutte le cose, perché tutte le cose sono fatte della stessa materia spirituale. Quindi è possibile, per essere umani superiori, come appunto D'Annunzio pensava di essere, entrare in contatto con la natura, parlare con gli animali e percepire i sentimenti e le parole che pronunciano le piante. E vediamo adesso, ultima ma non ultima, la tematica erotica. D'Annunzio, lo sappiamo dalla sua vita, è stato un grande amante, ha avuto moltissime donne e le ha cantate nelle sue poesie. Nelle sue opere D'Annunzio ci propone sempre delle figure di donna assolutamente al di sopra della norma, sono donne eccezionali, spesso anche loro mitizzate. Ad esempio, in Stabat Nuda Estas, la protagonista, che attira l'attenzione del superuomo, diviene una personificazione dell'estate, una specie di mitica ninfa dei boschi. Nella pioggia nel Pineto, la donna viene chiamata Ermione, quando noi sappiamo bene che Ermione era un personaggio mitologico, era la figlia di Elena di Troia e di Menelao, quindi un personaggio mitologico, ma non un personaggio mitologico universalmente conosciuto, bensì un personaggio che soltanto i più colti possono conoscere, proprio per sottolineare il fatto che il superuomo è anche un uomo di grande cultura. E in Stabat Nuda Estas, in particolare, vedremo quando la leggeremo che accade qualcosa di particolare, cioè che il superuomo, il poeta, intravede questa donna, non sa chi sia, ma la attira e quindi si mette ad inseguirla. Lei scappa, lui la insegue. Questo inseguimento dell'uomo, della donna che scappa, ricorda quello mitico di Apollo e Daphne, con la differenza che, attenzione bene, mentre Apollo fallisce, perché alla fine del mito, come tutti sanno, la ninfa, pur di non essere preda del Dio, si trasforma in un albero di alloro, sfuggendogli. D'Annunzio invece ha successo, perché riesce a catturare e a possedere la sua preda. Quindi è come se ci dicesse D'Annunzio, io sono come Apollo, e ricordiamoci che Apollo era anche il dio della poesia, ma sono anche migliore di Apollo, perché mentre Apollo ha fallito nel suo intento di possedere la donna dei suoi desideri, io D'Annunzio l'ho avuta. E veniamo adesso a parlare di D'Annunzio, della sua vita, del suo modo di fare arte. D'Annunzio era sicuramente un uomo fuori del comune, un uomo di lettere, come non se ne era mai visti. Egli parlava di vivere inimitabile, cioè aveva proprio intenzione di fare della sua vita un'opera d'arte. Questa sappiamo che è la parola d'ordine dell'estetismo. Essere un esteta significa proprio questo, fare della propria vita un'opera d'arte. E D'Annunzio aveva questo scopo, la sua vita doveva essere una vita inimitabile. E questo come lo ottiene? Beh, lo ottiene facendo mille esperienze. Lui non è soltanto un letterato, ma è anche un uomo che si è dedicato al cinema, che si è dedicato alla musica, alla pittura, che ha costruito una dimora, il Vittoriale, da lui pensata e arredata come proprio un museo autocelebrativo e che ancora oggi è molto visitata dai turisti. È stato un uomo che si è dedicato alla pubblicità, è stato un capo militare, è stato un aviatore. Insomma, D'Annunzio è sempre stato fuori dal comune un grande esibizionista e lui si definiva così non un letterato in papaline e pantofole. Ecco, lui voleva essere qualcosa di diverso, non voleva essere rinchiuso nella sua torre d'avorio, ma voleva entrare nel mondo, guidare il mondo, dominare il mondo. Tante esperienze, quindi, che gli hanno portato successo, celebrità e così D'Annunzio ha creato un vero e proprio mito di se stesso. Noi oggi non ci rendiamo più conto di quello che era D'Annunzio per la gioventù dell'epoca. Pensate che alcuni ragazzi, tra cui il grande scrittore Carlo Emilio Gadda, quando aveva ancora 18 anni e stava in quinta superiore, in quinta liceo, doveva fare l'esame di maturità, beh, Gadda e alcuni suoi amici scrissero a D'Annunzio dicendogli noi vogliamo fare la guerra, non vogliamo più studiare, ci vogliono tenere qui per fare l'esame di maturità quando invece la patria ha bisogno di noi e noi vogliamo andare a combattere per la patria, vogliamo andare a combattere per l'Italia. E a chi scrivono questi giovani volenterosi se non ad Annunzio il grande Vate, il padre della patria, sicuri che lui riuscirà ad aiutarli, potrà convincere chi di dovere a dargli il via libera e a mandarli al fronte. Ecco, pensate un po' all'influenza che aveva D'Annunzio sulla gioventù dell'epoca e che avrà anche sugli intellettuali successivi perché chi vorrà fare il poeta dopo D'Annunzio non potrà non passare attraverso D'Annunzio, non potrà non rileggere D'Annunzio, non potrà non confrontarsi con D'Annunzio e fare i conti con lui nel bene e nel male imitandolo o contrapponendosi a D'Annunzio. D'Annunzio come abbiamo detto era un uomo dei suoi tempi, si è dedicato alla fotografia, di lui abbiamo delle foto studiatissime che lui creava con oculatezza in maniera che la sua figura venisse fuori come l'esteta che era. Addirittura di D'Annunzio abbiamo un nudo, la prima fotografia di un uomo nudo che noi abbiamo in Italia con il nome e cognome stampato sopra perché di fotografie di uomini nudi ce n'erano anche prima ma la prima foto di un uomo nudo che abbia avuto il coraggio di mettere il suo nome e cognome sulla foto stessa è proprio quella di D'Annunzio un uomo che si è dedicato dicevo al cinema si è reso conto dell'importanza di questa nuova arte e si è dedicato anche ad essa per esempio ha scritto le didascalie del film Cabiria certo l'ha fatto per l'autocompenso che gli è stato elargito ma comunque l'ha fatto mentre altri poeti magari meno lungimiranti ma più pieni di sé avrebbero evitato di lasciarsi coinvolgere in questo nuovo mezzo artistico che ancora veniva considerato semplice intrattenimento per il popolino egli aveva amore per la velocità la velocità è proprio l'emblema della fine dell'ottocento l'inizio del novecento le automobili i treni gli aeroplani e D'Annunzio ha guidato tutto questo è stato un aviatore è stato sui treni e guidava le macchine credo che se non ricordo male una delle prime multe mai date in Italia per eccesso di velocità l'abbia preso a proprio D'Annunzio era un grande poeta padrone della lingua ed ha inventato un sacco di parole che ancora oggi utilizziamo scudetto lo scudetto è una parola inventata da D'Annunzio automobile al femminile prima l'automobile era maschile adesso invece viene usata al femminile dopo che D'Annunzio ha detto no l'automobile è mia è come una donna che io posseggo mentre il piave prima si chiamava la piave ma da che D'Annunzio ha detto che il piave non poteva che essere maschio perché lì si era combattuto e anche il piave come un combattente aveva aiutato gli italiani beh da allora in poi la piave si è trasformata è diventata il piave e poi ha inventato la parola velivolo la parola fusoliera la parola tramezzino e vigili del fuoco rinascente la grande catena di negozi che ancora oggi conosciamo saiva anche questa marca che ancora oggi esiste ha il nome inventato da D'Annunzio ed infine milite ignoto è stato lui a nominare così quella salma che ancora oggi giace sepolta all'altare della patria quindi un uomo di lettere un uomo straordinario un uomo dei suoi tempi che viveva dei proventi dei suoi libri creare questo mito di se stesso questa vita inimitabile gli serviva anche per farsi pubblicità e quindi per guadagnare i giornali facevano a gara per avere i suoi articoli perché così i giornali si vendevano meglio gli autori di cinema facevano a gara per avere la sua collaborazione perché così i film avevano più successo è un uomo del decadentismo e quindi quando diciamo uomo del decadentismo diciamo che è stato un esteta un uomo devoto al piacere un uomo devoto alla bellezza che faceva della propria vita un'opera d'arte come abbiamo detto infatti è stato anche un dandy cioè un uomo elegante raffinato abituato al lusso brillante conversatore che vuole distinguersi dal resto della popolazione considerata inferiore volgare e distinguersi sia però dalla borghesia che dal popolo il popolo perché è ignorante la borghesia perché è volgare un uomo appunto che vuole andare controcorrente e infine è stato anche un grande versificatore attenzione non ho detto poeta è stato forse anche un grande poeta ma su questo possono esserci delle idee diverse ma sul fatto che sia stato un grande versificatore su questo non ci sono dubbi le sue opere le sue opere infinite i versi che ha scritto sono tantissimi e soprattutto lui riusciva a creare una musicalità un gioco di corrispondenze tra i suoni con una perfezione che difficilmente altri poeti hanno raggiunto per esemplificare il suo essere esteta il suo essere diverso il suo sentirsi devoto all'arte in ogni attimo della sua vita leggiamo insieme questo piccolo brano io mi nutrivo scrive D'Annunzio con una diecina di mandarini profumati di violette ovviamente essendo lui un superuomo sapeva distinguere quel lieve sentore quel lieve profumo del mandarino che non è l'odore normale del mandarino ma un odore di violetta ecco un profumo che una persona normale non avrebbe potuto identificare disponevo accuratamente sulla scodella con l'istinto coloristico di Antonio Mancini io frequentatore del caffè greco la buccia del mandarino sempre dalla parte colorata ecco intanto vabbè notiamo l'accenno a Antonio Mancini un pittore che amava utilizzare colori violenti ci dice la nostra nota questo piccolo particolare ci dice che D'Annunzio da bravo esteta da bravo dandy non frequentava persone comuni bensì artisti pittori rinomati cosa che non tutti facevano ma lui era un superuomo uno che conosceva le persone giuste conosceva i pittori frequentava i caffè più alla moda ma quello che mi interessa che voi notiate soprattutto è questa storia delle bucce del mandarino perché le bucce del mandarino quando tu le butti nel piatto non è detto che ti cadano precisamente tutte dalla parte colorata ma lui no lui ce le mette accuratamente le dispone accuratamente sulla scodella con la buccia sempre dalla parte colorata perché si deliziava nell'ammirare il rilievo della buccia la grazia della porosità gli piaceva proprio la consistenza della buccia gli piaceva vederla toccarla e gli piaceva probabilmente anche ammirare il contrasto tra l'arancione intenso della buccia e il bianco della scodella quindi la disponeva sempre della parte colorata creava un'opera d'arte anche semplicemente mangiando mandarini e questo nostro grande versificatore è stato apprezzato in tutta Europa André Gide che nel 1947 avrebbe vinto il premio Nobel per la letteratura di lui ha scritto che prima di D'Annunzio la letteratura italiana era considerata quasi dappertutto in Francia morta D'Annunzio ha reso all'Italia e all'enorme servigio di attrarre nei suoi confronti l'attenzione di tutta l'Europa e poi con Gide concordano due fra i massimi scrittori del Novecento cioè Marcel Proust che si disse entusiasta di uno dei romanzi di D'Annunzio L'Innocente e anche James Joyce per il quale D'Annunzio era l'unico scrittore europeo degno di essere accostato niente di meno che a Flaubert ma veniamo adesso a parlare di quella che è la raccolta poetica forse più importante di D'Annunzio l'unica che noi studieremo e cioè Alcione la raccolta Alcione costituisce il terzo libro di un più ampio ciclo poetico intitolato Laudi Laudi del cielo della terra del mare e degli eroi questo è il titolo completo ma comunemente lo si chiama semplicemente Le Laudi il progetto originale prevedeva sette libri intitolati ciascuno ad una delle sette stelle principali che compongono la costellazione delle Pleiadi e che vedete qui nell'immagine in realtà poi D'Annunzio non realizzerà tutti e sette i libri ma soltanto cinque Maya nel 1903 Elettra Alcione pubblicati contemporaneamente nel 1903 ma datati 1904 Merope qualche anno dopo nel 1912 e Asterope che verrà pubblicata soltanto nel 1933 i libri intitolati a Taigete e a Caleno non furono mai nemmeno tentati D'Annunzio scrisse Le Laudi dopo un viaggio in Grecia che aveva fatto sul panfilo di un suo amico il panfilo Fantasia nell'estate del 1895 aveva visitato il Golfo di Corinto Olimpia Micene Atene il Patrasso e poi anche alcune isole da questo viaggio D'Annunzio aveva ricavato un interesse profondo sia per la natura sia per le divinità e gli eroi che abbiamo visto essere appunto due delle tematiche principali della poetica D'Annunziana la natura infatti si collega alla tematica del superuomo che sente la natura entra in contatto con essa ne diviene parte integrante la tematica che abbiamo definito del panismo e la riattualizzazione del mito D'Annunzio vede la funzione del poeta come simile a quella di un vate di un profeta quindi una missione sacra e profetica per cui spesso e volentieri si paragona proprio a un personaggio sacro a un dio a un semidio o a un eroe le tematiche del superuomo del panismo della riattualizzazione del mito sono presenti in tutte le laudi ma soprattutto fanno parte delle tre raccolte uscite nel 1903 Maya Elettra e Alcione le altre due Merope del 1912 parla di una guerra della guerra di Libia in questo libro infatti D'Annunzio si dichiara a favore della guerra di Libia proprio come aveva fatto anche Pascoli più o meno negli stessi anni scrivendo il suo discorso la grande proletaria si è mossa Asterope poi pubblicata come ho detto nel 1933 è stata però scritta nel 1918 e inneggia alle gesta dei soldati italiani nella prima guerra mondiale il libro dedicato ad Alcione che come ho detto sarà quello che noi studieremo con più attenzione può essere definito come un diario in versi di un'estate è come se D'Annunzio scrivendo le poesie di Alcione ci avesse descritto una sua vacanza estiva un periodo che va da giugno a settembre cioè dal tempo della mietitura a quello della vendemmia in questo lasso di tempo l'autore aveva vissuto una vacanza aristocratica in ville meravigliose in Toscana in compagnia di Eleonora Duse la famosissima attrice teatrale che fu a lungo l'amante di D'Annunzio questa raccolta è immersa in un'atmosfera trasognata un'atmosfera mistica e in questa atmosfera si compie il recupero sia pure nell'illusione di una favola bella che presto dovrà finire il recupero dicevo di un rapporto vero e vitale con la natura una comunione profonda con le cose e con la loro anima D'Annunzio qui raggiunge quella misteriosa facoltà di penetrare in ogni oggetto e di tramutarsi in esso che lui stesso afferma essere il centro della sua arte della metamorfosi cioè appunto il panismo i primi due libri delle Laudi Mai ed Elettra erano rappresentativi di una fase diversa di una fase eroica una fase civile impegnata ecco Alcione è un'altra cosa vuole essere una specie di tregua un momento di riposo un momento di sogno un momento di meritato abbandono del superuomo alla dimensione della natura e del mito Alcione si compone di 88 liriche che si suddividono in 5 sezioni e ciascuna sezione è caratterizzata dal riferimento ad un preciso momento stagionale e a un diverso ambiente naturale paesaggistico nonché a un corrispondente stato d'animo per cui passiamo da uno stato d'animo vitale e allegro nelle prime poesie quelle ambientate a giugno a un momento più triste malinconico nelle ultime quando l'estate ormai si sente che sta sfuggendo che sta finendo bene io con questo ho concluso vi saluto e vi do appuntamento alle prossime lezioni e vi do appuntamento